L'attore Giberto Idonia e il direttore artistico Nino Mazza hanno presentato questa mattina nel foyer del Teatro Metropolitan di Catania la rassegna Quattro Stelle che prenderà il via dal prossimo novembre e che vedrà impegnati al centro del parco scenico in sei spettacoli fino alla primavera del 2013 cinque popolarissimi rappresentanti del teatro siciliano Antonello Costa, Nino Frassica, Giberto Idonia, Gianfranco Iannuzzo e Pino Caruso. Una stagione a quattro stelle? Una stagione a quattro stelle ma principalmente una stagione che ha l'apporto dei siciliani della diaspora, quei siciliani che per essere riconosciuti prima sono dovuti andare fuori e poi ritornano da stelle perché ho sentito in questi giorni tutta la città che piangeva per la cultura che veniva massacrata. Allora ho chiesto a questi siciliani che incontro a Roma e parliamo sempre di Sicilia, cosa possiamo fare? Piuttosto di chiedere un contributo andiamo a fare una stagione al Metropolitan e siamo qua per presentare questi testi, per avere questo rapporto col pubblico e speriamo di divertirci assieme. Tu in scena sei con due spettacoli, One Man Show, ormai conosciutissimo, quindi lo riporti ancora una volta con grande successo. Io ringrazio Mazza perché ha preteso che ci fosse questo spettacolo perché vent'anni fa ho lasciato il Metropolitan e quindi mi sembrava giusto che ritornasse con lo spettacolo che mi ha fatto conoscere in tutto il mondo e quindi un omaggio di Nino Mazza nei riguardi di Gilbert Idonia e un omaggio di Gilbert Idonia a Nino Mazza che mi fece debuttare in questo teatro quando ancora non era una stella. Sei spettacolo di tutto rispetto qui al teatro metropolitano, finalmente anche i nostri attori. Più uno che fuori abbonamento e sarà dei inviti che come diceva lui l'anniversario, non si può dire quale anniversario. Addio alle scene di Nina Michalizzi. Gibertù, per chiudere, per portare il pubblico catanese e nonno a vedere queste quattro stelle, quattro stelle come rassegna teatrale ovviamente, cosa possiamo dire? Io mi auguro che quei quasi 9 mila abbonati che ho lasciato al Metropolitan vengono a fare festa con noi, i prezzi sono abbastanza popolari e poi basta dire io sono un vecchio abbonato da allora e il teatro Metropolitan riserverà a loro uno sconto particolare.